Il libro in cui Silvan insegna come si diventa prestigiatori si apre con questa massima. Conoscere un gioco è niente, saperlo fare è già qualcosa, saperlo presentare è tutto. Molti principianti studiano solo la tecnica del gioco di prestigio, ma Silvan dice una cosa importante, chi studia le presentazioni spalanca universi. Ecco cosa intende. Nell'episodio 181 abbiamo visto che Leonardo da Vinci descrive nel codice atlantico la tecnica di un antico gioco di prestigio. Essendo uno scienziato, Leonardo parla di numeri astratti, nulla che scaldi il cuore. Nell'episodio successivo, quello sulle suore ebirichine, abbiamo visto che Luca Pacioli ha ambientato il gioco di Leonardo in un monastero. La presentazione a sfondo religioso rivela chi era Pacioli. Un frate francescano. Nei giorni scorsi, Giorgio Orfino ha scoperto che nel Museo degli Enigmi di James Dalghetti esiste la versione cartacea del gioco di Pacioli, datata 1863. Sulla plancia ha riprodotto il monastero con le sue otto stanze. Le pedine sono 32, 24 suore e 8 soldati. Al centro ci sono le quattro suore guardiane, che attraverso una vetrata contano le persone su ogni lato. I vari quiz da risolvere sono quelli che sappiamo. Come si tolgono o si aggiungono nuove pedine, in modo che il loro numero sui quattro lati resti sempre uguale? Come ho già detto, chiamarlo il gioco di Leonardo non è corretto. Il trucco arriva da un manoscritto arabo che Giorgio ha ritrovato a Manchester. Eccolo. Il nome dell'autore è per me impronunciabile. Lo lascio scritto in sovraimpressione. Il manoscritto è piccolo, ha le dimensioni dei fumetti di Topolino e le diverse scacchiere sono disegnate a inchiostro rosso. Io, Giorgio e Mauro Ballesio iniziamo a studiarlo, ma troviamo solo commenti di studiosi inglesi con le idee abbastanza confuse. Si tratta di un libro di scacchi che presenta anche qualche trucco magico. Abbiamo bisogno di occhi in grado di leggerlo. E qui ci viene in aiuto Giorgio Youssef. Giorgio non fa solo il prestigiatore, ma anche tra le migliori pizze al tegamino di Torino. Arriva dall'Egitto e legge l'arabo sin dalla nascita. E' lui a svelarci il mistero di questo manoscritto. Dunque, grazie Giorgio. Il racconto inizia qui, dopo la virgola rossa. E' ambientato in una grande città orientale affacciata sul mare. Parla di un ricco proprietario di schiavi che, dovendo caricare gli uomini su un traghetto, si accorda sul prezzo con il padrone dell'imbarcazione. Quanto costa traghettare i miei schiavi? Metterò dodici persone su ogni lato. Pagato il dovuto, l'uomo fa salire trentadue uomini, tanti quanti sono i pezzi degli scacchi, dice il racconto. Il proprietario verifica che abbia rispettato l'accordo. E' tutto in regola. Quattro più quattro più quattro su ogni lato fa dodici. All'improvviso, sul traghetto salgono altri quattro schiavi. L'uomo della barca si sfrega le mani. Più uomini vuol dire più soldi. Ma quando li riconta, non crede ai suoi occhi. Tre più sei più tre fa sempre dodici. Poi ne salgono altri quattro e tutti si ridistribuiscono. Il proprietario del mezzo si lamenta, le condizioni erano chiare. Dodici per lato. Ma quando li riconta, due più otto più due sono sempre dodici per lato. Per un'ultima volta altri quattro schiavi salgono sul traghetto. Il proprietario è fuori di sé. Qualcosa di magico sta succedendo perché gli uomini aumentano, ma sui lati ce n'è sempre dodici. Uno più dieci, più uno. Il manoscritto ci parla della straordinaria capacità di contrattazione dei mercanti arabi e di un mondo dove conoscere un trucco offre autentici vantaggi economici. Nella Spagna dell'Ottocento il gioco si mescola alla cronaca. Sam Lloyd racconta di averlo trovato ambientato in un monastero sul Picco Daneto, una montagna dei Pirenei noto all'epoca come Monte Maledetta. I locali ricordano con orrore le truppe francesi che rapiscono nuove suore da un convento e le consorelle che vogliono evitare lo sciocco della madre superiore redistribuendosi sui due piani del monastero. Diego Allegri, che mi ha segnalato questo gioco, fa notare che Lloyd è un genio perché aggiunge al gioco le due dimensioni, visto che si parla di sedici stanze su due piani. A me viene in mente che Lloyd è anche il barman dell'Overlook Hotel e mentre racconta la storia del Monte Maledetta, fa come i registi dei film horror, anteponendo al suo drammatico indovinello la scritta tratto da una storia vera. Lo sarà davvero? Se vuoi cimentarti nel gioco matematico, abbiamo caricato le pagine di Lloyd nella Biblioteca Magica del Popolo. E infine arriviamo in Italia, dove Italo Gersi ci parla di vecchie taverne dove si gioca carte tra un bicchiere e una tovaglia rossa scacchi. Nel 1913 ci parla della cantina quadrata del signor Candido, dove ci sono 21 bottiglie per lato. Purtroppo Candido è un po' troppo Candido e non si accorge che l'uomo che gli gestisce la cantina gli sta rubando il vino. Il cantiniere infedele vendette 4 delle bottiglie e dispose le rimanenti 56 in modo che la somma su ciascun lato risultava sempre di 21, riuscendo così a trarre in inganno il signor Candido che credette in una semplice trasposizione delle sue bottiglie. Stesso gioco, un'ambientazione alcolica completamente diversa dalle precedenti. Ma allora, quante possibili ambientazioni esistono? Questo è il bello. Sono infinite. Ognuna ci parla dell'illusionista che la mette in scena. Ogni presentazione rivela chi sei. Tienilo a mente quando inventi le tue storie. Se non sono schiavi, suore o bottiglie, cosa ci sarà sul tuo tavolo magico? Mentre ci pensi, lascio che sia Davide Brizio a raccontare qualcosa di sé con la sua versione del gioco. Da grande esperto di videogiochi ed escape room, l'ha ambientata in un tempio di quelli che di solito visita Lara Croft, la cui facciata contiene un affascinante enigma. Ciao Mariano, ti faccio vedere una cosa che dovrebbe piacere a te e a tutti quelli che seguono le tue pillole di Mesmer. È una variante particolare del gioco di Leonardo di cui hai parlato nei giorni scorsi e alla fine contiene anche una sorpresa che dovrebbe essere interessante per te e spero anche per tutti quelli che appunto ti seguono. Quello che vedi qui davanti è un triangolo ipermagico. Perché iper? Perché come tutte le figure geometriche che hanno davanti la parola iper contiene una dimensione in più. In questo caso la dimensione in più che contiene è magica, perché contiene più magie in una sola. Immaginiamo che questo sia il triangolo che si trova magari sul davanti di un tempio come quelli che visita Lara Croft e che contengono degli enigmi che devono essere risolti. Sono dei pannelli di solito con dei meccanismi che si muovono. In questo caso ha delle caratteristiche particolari. Vediamo la prima. Intanto è costituito da 13 tessere per lato. Vedete, ne abbiamo 4 in questo angolo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tessere da questa parte. E questa è la prima caratteristica. La seconda è questa. Ogni tessera contiene su di sé tutta una serie di geroglifici e al centro di questo triangolo c'è una serie di pannelli con quello che possiamo chiamare il geroglifico centrale che contiene tutta una serie di simboli come questo. Ognuno di queste tessere, ognuno di questi pannellini ha una caratteristica particolare che lo accomuna con quello centrale ovvero che contiene anch'essa dei simboli ma uno e uno solo è in comune con il simbolo che si trova al centro di questo triangolo ipermagico. In questo caso, per esempio, è il simbolo del biberon. E la stessa identica caratteristica vale per tutti gli altri pannelli che compongono il nostro triangolo. E potete vedere che qua, per esempio, c'è il simbolo del formaggio, qua c'è il simbolo dell'igloo, qua c'è il simbolo delle macchioline verdi, il pupazzo di neve. Ve ne faccio vedere altri due in camera. Ma vediamo che cosa succede se all'interno del tempio Lara Croft preme uno di questi pannelli qua e scatena il meccanismo magico che compone tutto il triangolo. E prendiamo il pannello centrale, quello che accomuna tutti gli altri, e lo mettiamo in un punto qualunque del nostro triangolo. Normalmente chiederei a voi di dirmi stop, ma visto che siamo in videochiamata diciamo che lo metto io qua, decido io per voi. E che cosa succede? Che nel momento in cui la nuova tessera entra a fare parte del triangolo, aggiungendo quindi un elemento al triangolo precedente, si innesca il meccanismo magico. Si mescolano tutte le tessere centrali e iniziano a spostarsi le tessere che compongono il triangolo in questo modo misterioso. Una viene qua, una viene qua, una viene qua, questa si scambia con questa, in questo modo qui, e questa viene qui. E si ferma di nuovo tutto. Che cosa è successo? Non lo sappiamo, però se andiamo a contare adesso quali sono le quantità di elementi che contengono, che compongono ciascun lato, ne abbiamo uno, due, tre. Dieci, undici, dodici, di nuovo tredici elementi. Il pannello che abbiamo aggiunto noi è completamente scomparso, non solo, ma dato che abbiamo rimescolato completamente tutti questi pannelli e anche quelli centrali, è cambiato anche l'elenco dei simboli che si trovano sulla casella centrale. Ma nonostante questo, se noi adesso andiamo a voltare ogni singolo pannellino, potremo notare che è rimasta immutata la caratteristica precedente, ovvero che ciascun pannello ha un simbolo, e un solo simbolo in comune con quello centrale. Mescoliamo quelli che stanno al centro, prendiamo un pannello e lo aggiungiamo in un punto qualunque del triangolo. Per esempio, qua, questa volta. E di nuovo si scatena il meccanismo, si mescolano le tessere e iniziano a spostarsi in maniera misteriosa. Questa viene qui, questa viene qui, questa si sposta qua, queste due si scambiano di posto. E si ferma di nuovo tutto il meccanismo. E al termine abbiamo di nuovo uno, due, tre, dieci, undici, dodici, tredici tessere anche su questo lato. E di nuovo scomparse il pannello che abbiamo aggiunto. Ma non solo. Avendo di nuovo remescolato tutto e nuovamente cambiato la tessera centrale con dei nuovi simboli, ma di nuovo, per magia, un simbolo solo e un solo simbolo in comune con quello centrale. Ora, tu Mariano conosci bene questo gioco qua. Ti dico da dove arrivano le due idee. Allora, la primissima è una variante di Jim Steinmeier presa da Impazzibilities di Jim Steinmeier e dove c'è la variante che si chiama il triangolo delle bermuda di questo gioco. Invece, tu conosci bene il gioco da cui deriva questa variante qui che è Double e che finalmente ho trovato un'applicazione magica di questo gioco se ti ricordi ne avevamo parlato parecchio tempo fa e perché mi è venuto in mente di mettere insieme Double con la tua idea di Leonardo perché ed è qui la sorpresa che volevo dirti ieri sera ho ricevuto una mail dalla newsletter della AsmoD che è la casa produttrice del gioco che ha reso disponibile gratuitamente Double per essere stampato e giocato in famiglia in questo periodo in cui la gente è in casa puoi trovare una versione in PDF con tutte le carte di Double che possono essere stampate ritagliate con tutte le istruzioni ovviamente per giocare insieme e con il segreto chiaramente che sottostà a questo gioco qui spero che ti sia piaciuta l'idea a presto ciao un bacione ciao 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 Grazie a tutti